Sorrido un attimo perché quando abbiamo detto riforma della pubblica amministrazione nel mese di aprile potete immaginare la gioia di Mariana Madia che in questo mese ha anche fatto altro, tra l'altro una cosa molto più bella e significativa della riforma della pubblica amministrazione, vale a dire Margherita. Le sono particolarmente grato perché il lavoro che ha fatto, che ha svolto e il metodo che mi ha consigliato di seguire è particolarmente interessante e importante.